Quando affronto una discesa a tutta non c'è tanto modo di pensare a qualcos'altro, però senza rischiare non si arriva a destinazione, quindi in questa linea sottile sai che puoi vincere quella gara oppure magari cadere e perdere tutto e arrivare ultimo. Questa è l'ultima innovazione che si chiama Grid Skin, è un prodotto dove viene stampato questa grafica in quattro dimensioni, ovvero l'ultima è quella del calore dove viene applicato questa parte che sono come dei pad e questo è un elemento fondamentale per la sicurezza. Questi pad offrono un certo tipo di comfort, in caso di impatto diciamo quando si colpisce c'è una dispersione un po' della forza, protezione per quanto riguarda la velocità ma allo stesso tempo anche un po' di aerodinamica. Solitamente le scivolate avvengono praticamente quasi sempre in curve, curve veloci e sappiamo tutti che le abrasioni regano tantissimo dolore e avendo questo leggere imbottitura sicuramente ci crea una zona un pochino più protetta e in quel caso ci va a proteggere tantissimo. È un materiale estremamente tecnico quindi nella sua trama troviamo dei piccoli fuori dove lasciano traspirare l'aria ma è allo stesso tempo molto aerodinamico perché si adatta bene alla forma del corpo, è estremamente leggero. Ho avuto modo di provare questa maglia più volte, specialmente nelle uscite in mountain bike e devo dire che si adatta perfettamente come detto poco fa alle forme del corpo, quindi non ti dà nessun senso di ingombro. La parte posteriore delle tasche è stata studiata con un tessuto molto traspirante, sappiamo tutti che dietro passa meno aria quindi il sudore va a bagnare la maglia, con questo non succede perché c'è questa traspirazione della parte posteriore e poi la tasca è fatta in modo da poter contenere tutto il necessario che ci può servire durante un'uscita in bici.